Cari signori e fratelli, sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è da sempre dura in eterno, per quanti lo temono. E la grazia del Signore si è rivelata nel tempo. Vogliamo fare nostre le parole del salmista che dice Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi, i suoi giudizi della sua bocca. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Dio rese molto fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi oppressori. Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo e agissero con inganno contro i suoi servi. Mandò Mosè, suo servo, Iaronne che si era scelto. Misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Camma. Dio, fratelli, ha voluto manifestarsi. Nella liturgia di oggi la Chiesa ci presenta il brano in cui Mosè si rivolge al Signore che li si manifesta e gli chiede il suo nome, come si chiama, come ti chiami, perché chiedi il nome. Gli antichi, praticando la polica, il politeismo, cioè l'adorazione di molte divinità, davano a ciascuna divinità un nome specifico per distinguerlo dall'altro. Quindi quando Mosè chiede a Dio come ti chiama, ecco io andrò dal tuo popolo, ma essi mi chiederanno come si chiama, io cosa risponderò? E il Signore risponde a Mosè dicendogli, tu direi loro, ecco, io sono, mi ha mandato a voi, io sono, non chi sono, sono. Cioè, sono la vita, sono l'esistenza, sono la realtà. Dio è più reale, fratelli, di noi stessi. La nostra mente umana si perde nel mistero di Dio, invisibile, ma che si è manifestato apertamente. Dio è vita, Dio è la vita, Dio è la luce, Dio è la verità. Non finiremo mai di elencare gli attributi di Dio. Per questo Dio non si dà un nome, ma degli attributi che qualificano la sua realtà, manifestano la sua realtà. Teniamo presente che nel mondo orientale il nome che viene dato non è una cosa posticcia. Il nome abitualmente vuole esprimere la natura di quella persona, oppure la missione di quella persona. Mosè, salvato dalle acque. Gesù, Dio salva. Il nome sta a indicare la natura e anche la missione di quella persona. Ora, quando Dio rivela a Mosè il suo nome, non vuole darsi un nome, ma degli attributi che lo facciano riconoscere per quello che lui è. Io sono. È una definizione. Io sono colui che è. Io sono colui che fa esistere. Cioè non c'è essere che esista senza di me. E poi, questa rivelazione del nome sta indicando la confidenza di Dio con il suo popolo. Rivelare il proprio nome e dare confidenza. Una volta in Inghilterra si raccontava un episodio che due persone andavano allo stesso ristorante. La politeness inglese a quel tempo voleva che uno non si presentasse all'altro se non fosse introdotto da qualcuno. Sicché per me si mangiarono vicino l'uno all'altro al ristorante senza incontrarsi. Fino a che uno li introdusse e loro si riconobbero come facendo parte di uno stesso movimento. Ma non si erano mai incontrate tra di loro. Non perché non si dava confidenza. Dio invece dà confidenza a noi uomini. Ci rivela a se stesso. Per cui quando noi diciamo che Dio ci rivela il suo nome, vuol dire che ci partecipa alla sua vita, ci si rivela, ci si comunica. Non è il nome come tale. È la rivelazione della propria persona. E quindi quando noi diciamo agire nel nome di Dio, il nome qui sta per persona, nel nome di Gesù sta per persona. Io agisco per Gesù, per la vita di Gesù. Ecco allora la confidenza che Dio dà al suo popolo. E manifesta che lui dimuore in mezzo a loro, agisce per loro, li salva, si interessa di loro. Non è estraneo, anzi si immerge nella loro situazione e soffre insieme al suo popolo le sue vicende. Io sono il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Così tu dirai, Dio mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Qual è questo titolo? Dio è. Dio è. Guardate, fratelli, nel Vangelo di San Giovanni, Gesù dice a un certo punto ai farisei, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Si attribuisce lo stesso titolo di Dio. Sono l'essere. Fatto uomo. Io sono. E questo è il nome che noi dobbiamo sempre portare nel cuore. Nell'Antico Testamento il Signore viene nominato con titoli diversi, per esempio il Marciandai, Dio delle montagne, il Shabaoth, Dio degli eserciti, Adonai, il Signore, Erelohim, il Dio degli dei, e altri appellativi, ma non c'è una parola che esaurisca la natura di Dio. Nella Chiesa a volte ci sono queste discussioni, si chiede, ma qual è il vero nome di Dio? Per esempio, tra i testimoni di Geova, questa discussione in passato era molto più accesa di quando non lo sia oggi, perché loro dicevano che il nome di Dio è Geova. Ora, il nome ebraico che Dio dà, Yahweh, Nell'Antico Testamento veniva scritto, ma senza le vocali, per riverenza, per paura di sbagliare, di contraddire il secondo comandamento che dice non nominare il nome di Dio in vano, allora si mettevano le consonanti nella scrittura e quando si arrivava quel nome si faceva un inchino, ma senza pronunciare il nome. Gli studiosi masoreti, volendo ricollocare le vocali a nome di Yahweh, presero delle vocali non corrette, per cui venne fuori ma oggi è universalmente riconosciuto e la dicitura esatta in ebraico è Yahweh, Yahweh, colui che è. Ora, fratelli, questa conoscenza del nome di Dio ci deve portare non a una conoscenza semplicemente intellettuale, ma a una conoscenza di relazione. Dio rivelando si stabilisce una relazione con noi. E qual è la relazione di Dio? La relazione di Dio che è amore e nello Spirito Santo dà la vita. Lui è la vita e ti partecipa alla sua vita. Il tuo essere è partecipare all'esistenza di Dio. Come può l'uomo vivere senza Dio? Pure oggi stiamo costruendo una società senza Dio, un'assurdità. Signore Gesù, tu sei Dio in mezzo a noi, ti sei rivelato pienamente e ti sei dato un nome, Gesù, cioè Dio salva. Tu sei il Salvatore, per natura tua tu salvi. Salvi anche i tuoi nemici, vuole la salvezza anche di chi ti ha rinnegato, anche di chi ti ha crocifisso. Tu sei amore, Signore, vuoi stabilire con noi questo legame d'amore, far sì che noi siamo una cosa sola con te. Viviamo di te, per te e in te. A te Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai conosciuto Gesù, perché il tuo cuore ha toccato il cuore di Gesù, il suo, sei riempito del tuo. I vostri cuori sono stati totalmente fusi in una comunione perfetta e santa nello Spirito Santo e della bontà di Gesù che anche noi viviamo in comunione con Lui, che non siamo degli ammiratori, dei tifosi, della sua persona, ma che condividiamo con Lui la sua vita, la sua natura, la sua divinità, la sua santità e un giorno la sua gloria eterna. Apreci mente il cuore, fa che quella esperienza potente che tu hai avuto diventi anche nostra per vivere con Lui eternamente. A Lui sia gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cili, sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore e questa Signoria di Gesù regni nella tua vita e ti assimila il punto tale che non sia più tu a vivere, ma Lui in te. Amen.